Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Tribi Meteo. Nella giornata di venerdì la presenza dell'alta pressione qui sul Mediterraneo occidentale, che favorisce anche un'ondata di calore eccezionale per Portogallo e Spagna, influenza di fatto il tempo anche sul nostro paese, favorendo una certa stabilità. Infatti osservando la mappa della nuvolosità, il tempo rimarrà praticamente asciutto su tutto il nostro territorio, giusto qualche velatura di passaggio ma comunque di poco conto e non accompagnata da precipitazioni. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta nel corso della giornata di venerdì. Sull'Italia avremo dunque un contesto per lo più stabile e soleggiato da nord a sud, giusto qualche addensamento sull'arco alpino, qui magari qualche locale pioggia non è esclusa sui settori confinali, per il resto tanta stabilità con temperature in ulteriore rialzo, punte massime anche fino a 24-25 gradi sulla Val Padana occidentale, sui versanti interni e terrenici, qualche grado in meno lungo le coste adriatiche. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.